Buongiorno a tutti, eccoci qui al quarto appuntamento del nostro viaggio al centro della scienza, che come sapete quest'anno è dedicato all'emergenza, alla pandemia Covid-19. E naturalmente nel nostro viaggio non poteva mancare Andrea Crisanti, che è stato uno dei grandissimi protagonisti di questa pandemia e che davvero ha fatto la differenza in Italia, in Veneto, ma diciamo col suo studio nel mondo intero, lo studio di cui ci racconterà oggi. Una breve introduzione, Andrea è il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare all'Università di Padova ed è anche il direttore del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova. È arrivato in Italia da poco, dall'Imperial College, dove sei ancora professore, giusto? di parassitologia molecolare. Ed è stato uno dei pionieri della biologia molecolare del vettore umano della malaria, Anopheles Gambie. Andrea ha fornito davvero degli studi, dei contributi scientifici essenziali nello studio della malaria, ha fatto appunto comprendere, progredire le conoscenze genetiche molecolari sia del parassita, sia del suo vettore e tutto questo ha portato allo sviluppo di nuovi approcci appunto per bloccare questa terribile malattia. Però appunto poi in Italia si è trovato a dover gestire questa pandemia e quindi è diventato, come tutti sappiamo, uno dei protagonisti e dei massimi esperti di Covid-19, di SARS-CoV-2. E oggi quindi noi con Andrea, anche se un giorno mi piacerà in una prossima edizione farti parlare di malaria per raccontarci i tuoi studi, questa volta invece Andrea, quello che vorremmo sapere da te, abbiamo tutti sentito parlare tantissimo di questo studio di voi Uganeo, spiegaci che cos'è, raccontaci come è nato e perché è così speciale e così importante. Antonella, grazie, grazie tantissimo di questo invito. La tua introduzione in effetti poi ha evocato quella che è sempre stata la mia passione, cioè lo sviluppo di mezzi di controllo per eradicare la malaria. Poi devo proprio partire da questo, perché per me questa esperienza è stata fondamentale, perché in questi anni ho dovuto e anche con grande piacere ho preso conoscenze di genetica, conoscenze di evoluzione, di ecologia, di controllo sul campo di malattie epidemiche. Devo dire che senza questa esperienza non sarebbe mai nata voi, perché questa esperienza mi ha insegnato a vedere il problema delle malattie diffusibili, quindi trasmesse sia per contatto sia attraverso i dati vettori, da un punto di vista olistico, prendendo in considerazione tutti gli aspetti che determinano la trasmissione, piuttosto che focalizzare sul virus e avere invece una, prendere in considerazione anche altri aspetti. Quindi che è successo? È successo che quando, ecco, devo dire che io stavo in volo per l'Australia quando abbiamo avuto notizia dei primi casi di coronavirus in Italia, e quindi praticamente sono arrivato e sono subito e immediatamente tornato. E quindi, diciamo, le prime notizie le ho avute scambiando messaggi con i miei collaboratori. Comunque, fin dall'inizio, la cosa che mi aveva più impressionato è che avevamo prima l'1%, poi il 2%, poi alla fine eravamo arrivati al 3% di persone infette. E devo dire la verità, io mi ricordo che scrissi un messaggio alla mia collaboratoria e ci avevo detto, ma guarda che il 3% è veramente un'enormità per questo virus, perché già si sapeva che più o meno poteva avere una capacità vernicativa, cioè un R0 intorno al pre e un tempo di replicazione 5. Ora, io mi sono immaginato e proiettato nel futuro, ho detto, qui fra 15 giorni siamo al 30-40% e quindi, però mi avevano detto che avevano in qualche modo creato questa zona rossa e avevano fatto del tampone a tutti. Quindi poi, appena arrivato in Italia, abbiamo incominciato a telefonare a tutti i positivi e capire se avevano dei sintomi, contatti. Abbiamo cercato proprio di costruire la rete dei contagi e allo stesso tempo capire come stavano, se stavano male. Immediatamente capimmo che c'era circa il 40% di persone che erano positive perché non accusavano nessun sintomo. Allora, a questo punto, mi ricordo che era credo il 27 febbraio, una cosa di questo tipo, telefonai a Zaia e gli spiegai che involontariamente avevano creato una situazione epidemiologica unica, irripetibile, che non era mai accaduto, che proprio all'inizio dell'epidemia un'intera comunità fosse in qualche modo congelata dal punto di vista della trasmissione. E quindi gli dissi, guarda, qui vale la pena fare un secondo studio perché così possiamo capire esattamente qual è l'impatto delle misure che sono state prese e verificare poi, se ci sono altri casi, di costruire puntualmente le catene di trasmissione. Fondamentalmente questo era il nostro obiettivo iniziale. Quindi noi praticamente, i giorni 2, 3, 4 marzo, ci siamo affrettati a fare il secondo campionamento a Bo perché c'era l'urgenza assoluta di liberare i cittadini di Bo e di farli ricongiungere all'Italia, insomma, non c'era l'esigenza politica del momento. E quindi una volta fatto il secondo campionamento ci siamo resi conto di una serie di cose veramente interessanti. La prima è che le misure adottate avevano ridotto, portato l'R0 da 3,6 a 0,2 quindi praticamente c'era stata una soppressione di quasi il 98%. E qui vorrei anche magari aggiungere una nota importante che gli abitanti di Bo, contrariamente, durante il cosiddetto periodo di lockdown dell'Italia, non se ne stavano a casa, ma potevano tranquillamente circolare. Gli unici che stavano a casa erano quelli che erano stati identificati come positivi. Quindi questa è una lezione poi importante per capire poi... Però perché voi siete riusciti a identificare come potetevi anche gli asintomatici. Perché noi abbiamo identificati subito, è certo. e chiaramente chi non si potevano muovere nei positivi e i contatti stretti delle persone positiva. Tutti il resto della comunità poteva tranquillamente interagire e circolare. Dopodiché ci siamo resi conto anche di un'altra cosa importante, è che questi asintomatici avevano una carica virale molto simile a quella dei sintomatici. Praticamente non c'era una grossa differenza. Poi abbiamo, ci siamo resi conto che c'erano otto nuove infezioni a BOP. In questo periodo ci sono state otto nuove infezioni, la maggior parte dei quali totalmente di nuovo asintomatici. Ma la cosa interessante è che noi abbiamo potuto esattamente ricostruire le catene di trasmissione in una situazione veramente molto più controllata. Perché a questo punto tutte le persone stavano a casa. E quindi era molto più facile stabilire le catene di contagio. e tre di questi nuovi positivi erano familiari di persone asintomatiche o che convivevano con persone asintomatiche. Quindi è la prima volta che in maniera formale viene in qualche modo non solo intensificato l'asintomatico, non solo analizzata la carica virale, ma anche dimostrato che sono in grado di trasmettere. Un'altra cosa importante che poi ci ha anche aiutato a capire è anche la dinamica dell'infezione dopo il lockdown, che una persona che condivideva l'abitazione con una persona infetta aveva cento volte più probabilità di infettarsi di una persona che invece viveva con persone sana. E infatti le infezioni familiari sono state un problema grave che non è stato affrontato forse nel modo corretto. Sì, guarda, di nuovo qui appena ce ne siamo resi conto e penso che pure tu magari sei stata anche parte di questi dibattiti, io avevo in qualche modo evidenziato il fatto che tutta la trasmissione che avveniva dopo il lockdown, ti ricordi? Dopo 15 giorni di lockdown si aspettava che ci fosse un calo, invece questo calo non arrivava. Non arrivava perché c'era una riserva di persone all'interno delle famiglie o delle comunità che si stavano infettando. Ecco, perché in questo in qualche modo non è stato preso abbastanza. Perché in altri paesi, per esempio, invece hanno creato delle strutture, no? Dove si potevano isolare le persone. Sì, però diciamo, guarda, nel corso dell'epidemia che abbiamo avuto probabilmente non era più una cosa fattibile perché c'erano migliaia di persone, era una situazione estremamente caotica. Quindi purtroppo il progredire dell'epidemia è molto più veloce delle decisioni che vengono prese. Cioè c'è una specie di incorsa tra la diffusione del virus e le decisioni. Molto spesso le decisioni stanno sempre un passo indietro, no? E comunque devo dire che la... Dopodiché noi abbiamo il 17, adesso non mi ricordo, il 17 marzo, presentato alla Regione Veneto un progetto di fare appunto il tampone a tutta la cerchia di amici e familiari di tutte le persone infette di coinvolgere anche le RSA. Poi il giorno dopo, questo qua poi è diventato, è stato adottato proprio da una delibera della Regione Veneto. E da lì praticamente abbiamo cominciato a fare tamponi. Diciamo, a tamponi a tutti è un po' generico, però noi abbiamo fatto tamponi a le persone che stavano male, ai familiari, agli amici, e poi specialmente a Padua, perché a Padua facevamo anche una notevole capacità di fare esagio, abbiamo fatto, eseguito il tampone a tutti coloro che si presentassero in ospedale o che avevano sintomi, o che ci riferivano di aver incontrato una persona positiva, o che addirittura c'erano paura, se se l'ho preso, va bene? Quindi andava dal sintomatico al contatto fino all'ipopondriaco, insomma, in qualche modo. Però non abbiamo, diciamo, fatto eccezioni. Però devo dire che questa cosa poi alla fine ha avuto un impatto, perché a Padua la Regione Veneto ha avuto un decorso completamente diverso dell'infezione, ma in modo particolare a Padua, dove questa politica ha avuto più impatto tra all'interno del Veneto, è stata quella che veramente poi ha fatto la differenza più grande. E tu che sei quindi stato un osservatore, non solo osservatore, ovviamente sei stato un protagonista della comprensione di questa patologia, quindi comprendere il ruolo degli asintomatici, il meccanismo della trasmissione. C'è invece qualcosa di questa infezione, di questa malattia che ancora non ti è chiara, che continui a non farti dormire la notte, perché non ti convince? Sì, guarda, c'è una cosa che non mi convince e che è la... adesso non vorrei esprimermi in termini molto tecnici, ma la cosa che mi colpisce è che la patologia, cioè la gravità della malattia, è in qualche modo dipendente dall'incidenza, cioè dalla frequenza di casi, che è veramente una cosa che non si vede quasi mai. E qui devo aggiungere anche un altro piccolo particolare che adesso è emerso con la serologia, perché poi abbiamo fatto un terzo campionamento a voi, abbiamo prelevato il sangue con l'obiettivo di analizzare la risposta anticorpale e poi fare un'analisi genetica di tutta la popolazione. Ecco, da questa... mentre l'analisi genetica è ancora in corso, bisogna aspettare un pochetto, invece l'analisi sierologica è stata completata e ci ha permesso di identificare 63 persone che sono sempre state negative al tampone, ma che invece sono positive agli anticorpi. Quindi significa che queste persone si sono ammalate e guarite prima del 21 febbraio. Allora, qual è la cosa interessante? Che di queste persone 8 sono sintomatiche e tutti gli altri sono asintomatici. Allora, quindi praticamente gli asintomatici passano dal 90% al 40%. Questa è una cosa veramente strana perché in genere per diverse malattie infettive c'è una frequenza più o meno fissa in una popolazione di persone che si ammalano, di persone che non si ammalano, di persone che muoiono. C'è un range, uno spettro nella sintomatologia che qui non vediamo e sembra che sia proprio dipendente dal numero di persone infette. Ora, questo potrebbe essere di tantissimi fattori e stiamo cercando un po' di capirlo. Uno, per esempio, potrebbe essere alla presenza di questi che si chiamano altidiffusori, no? Certo, dei superdiffusori, sì. Allora, se uno assume che la frequenza di questi diffusori sia molto rara, tu devi raggiungere una certa soglia di trasmissione nella popolazione fino a che ne prendi uno è quello che praticamente emette tantissimo virus e fa malare le altre persone. Quindi praticamente può essere benissimo che esistono due livelli di trasmissione. Un livello di trasmissione basso che è praticamente mantenuto da persone che si trasmettono bassa carica virale e quindi tendono a rimanere più o meno sintomatici, fino a che l'infezione passa a un individuo che è tutto sommato abbastanza raro ma non molto frequente che si infetta e a quel punto questa persona invece emette una grandissima quantità di virus. A quel punto una persona normale invece di entrare in contatto con una bassa carica virale viene inondato da una grossa carica virale e si ammala. Un'altra possibilità potrebbe essere dovuta è il fatto che le persone possono reinfettarsi con cerchi diversi. Cioè per esempio io sono infetto passo il virus a un'altra persona e quest'altra persona si ammala sviluppa una mutazione nel ceppo che la ripassa a me e io ho un effetto che è dovuto alla una specie chiamiamola così di autoimmunità cioè che gli anticorpi che io produco contro il primo ceppo non mi proteggono ma di fatto svolgono un ruolo nella esagerazione della sintomatologia. questo è un meccanismo che è tipico per esempio del dengue. Un'altra cosa poi che abbiamo trovato sempre a bo è che le donne e gli uomini si infettano con la stessa frequenza ma le donne guariscono prima e si ammalano meno. Quello anche dal punto di vista statistico si era visto nel mondo che c'è effettivamente una minore... Però guarda qui lo vedi lo vedi in una maniera fantastica perché tra il primo e il secondo campionamento se tu fai la differenza di genere vedi che nel primo campionamento non c'è differenza. Nel secondo 15 giorni dopo vedi che c'è differenza perché le donne sono sparite perché sono guarite tutte e questa indipendentemente dall'età le donne guariscono prima sia che hanno 80 anni 90 anni 70 anni è indipendente dall'età cioè le donne tendono a guarire molto prima e non è età dipendente quindi diciamo questo sicuramente è un altro aspetto molto interessante che abbiamo evidenziato. Comunque alla fine poi l'altra cosa veramente sorprendente è che avendo fatto il tampone a tutti avendo isolato i positivi indipendentemente se erano sintomatici o asintomatici poi alla fine non c'è stato più nessun caso a boh. Quindi la ricetta per spegnere un focolaio Antonella ce l'abbiamo. Sì, sì un focolaio piccolo sicuramente sì è ovvio che la situazione come quella in Lombardia non era possibile però adesso vedo con piacere che questa lezione è stata appresa come è stato circoscritto il focolaio della Bartoghini quello di Roma vedo che adesso si sa che bisogna fare in questo modo ecco ecco guarda per esempio l'intercettazione dei passaggeri del volo da Bangladesh è tipico di quello che bisogna fare io sono due settimane che predico che bisogna fare il tampone in aeroporto a secondo una classificazione di rischio e diciamo questi fatti di oggi mi hanno dato ragione anzi sono contento perché dopo l'articolo che aveva uscito sul messaggero il ministro Speranza finalmente aveva detto sì facciamo sta cosa quindi insomma e questo di nuovo è un passo nella direzione giusta sì infatti ci mette diciamo non dico tranquilli però ci fa affrontare con serenità questi eventuali focolai che si possono sviluppare molto bene però questo retrospettivamente ci fa capire che occasione abbiamo perso a non testare i cinesi certo certamente cosa che avevamo proposto già il 3 febbraio no? se 25 su un volo di 300 persone e siamo all'8% tanto per dare una dimensione numerica erano positivi perché non devono essere nella stessa frequenza quelli che venivano da One a fine gennaio ovvio secondo me questo è un dato veramente importante perché ci fa capire esattamente quello che è successo significa che 25 persone si sono messe su un aeroplano pensando di stare perfettamente bene sono arrivate alla frontiera quasi nessuna di queste c'era la temperatura alta voglio dire più di questa dimostrazione non riesco a immaginare che abbiamo bisogno ecco ma credo che sia chiaro a tutti qual è stato il ruolo degli asintomatici e quale deve essere adesso il ruolo dei tamponi del tracciamento dell'identificazione dei positivi immediata se vogliamo evitare seconde ondate però uno dei grandi problemi dei tamponi è stato proprio anche la capacità di riuscire a fare tanti tamponi e di mettersi cioè di attivarsi di trovare i reagenti di trovare il personale cioè l'Italia ha avuto una crisi anche da questo punto di vista tu hai toccato un altro elemento importante guarda noi fin dall'inizio abbiamo optato per un cosiddetto metodo fatto in casa perché tu ricorderai che fecero scalpore i due i due pazienti i due turisti cinesi ma noi all'epoca già c'eravamo il test pronto il test pronto ce l'abbiamo credo dal 4 dal 4 febbraio guarda perché appena Imperial College e la mia collega la Ilaria pubblicarono il primo il primo rapporto immediatamente quando me lo mandarono io tornai a Padova che mi pare sarà stato il 13-14 gennaio avevamo già ordinato tutte quante le sonde quindi noi in qualche modo eravamo preparati è anche vero che il nostro era un laboratorio particolare perché è un laboratorio specializzato in vigilanza di malattie emergenti e quindi malattie emergenti per definizione è una malattia di cui si sa pochissimo non ci sta terapia non ci sta vaccino e a malapena sai chi la trasmette e quindi in qualche modo eravamo attrezzati anche a fare a sviluppare test chiamavano così fatti in casa e quindi a non aspettare la produzione industriale ecco diciamo questo tu considera che la produzione industriale ha approcciato il mercato praticamente in Italia 15-20 giorni dopo in termini significativi prima non c'era niente no no ma infatti è stato un gravissimo problema di tante altre città altri centri che non riuscivano a trovare proprio i reagenti per fare i test e che quindi è stato un fattore limitante però una cosa che mi piacerebbe discutere con te nel frattempo sono usciti degli approcci nuovi nel senso se dovesse tornare una ovviamente nessuno se lo augura un'emergenza dovremmo ancora usare quel tipo di sistema di diagnosi o ci sono sai questi questi ho visto quelli con la saliva sono allora io penso che in una condizione in una situazione epidemica diciamo anche i test a bassa sensibilità vanno bene in una situazione di vigilanza come siamo adesso bisogna usare test ad alta sensibilità quindi fa conto per screenare l'aereo che veniva da Bangladesh sarebbe stato un grave errore farlo con il test salivare perché c'è un valore predittivo positivo molto basso a basse frequenze a basse prevalenze quindi dipende chiaramente da cosa se c'hai un'epidemia e non c'hai nient'altro e quello ti prende il 70% non fa nulla hai eliminato il 70% l'impatto ce l'hai in ogni caso dipende dalla situazione in cui tu operi beh in questo momento Fauci aveva proposto negli Stati Uniti di fare un pool di mettere insieme più tamponi e dicevano così se c'è il positivo poi andiamo indietro e andiamo a identificarlo ecco guarda questa è una cosa che noi all'inizio abbiamo deciso di non farla perché erano talmente tanti i positivi che poi spacchettare i pool diventava un problema troppo grosso adesso che diciamo la prevalenza cioè il numero di casi positivi su tutti i tamponi scrinati e dell'ordine del mi pare che sia l'1 su 5 1 su 2-3 mila e allora lo fai il pool perché la maggior parte dei pool diviene negativi uno che ti viene positivo lo spacchetti ma ne devi spacchettare uno non devi spacchettare 30-40 perché poi sai spacchettare questi pool dal punto di vista di laboratorio è un grosso problema perché ci devi implementare tutto il processo di tracciabilità insomma non è diciamo infatti non lo stiamo facendo ancora giusto ancora in Italia questo non si fa no guarda lo stiamo facendo da qualche settimana diciamo a livello di pilota per capire che problematica diciamo allora dunque guarda se tu diluisci 1 a 4 c'hai un cosiddetto perdita di un ciclo fondamentalmente cioè il positivo passa tra 34-35 a 33-34 quelli bassi positivi allora in questa situazione non credo che sia un grossissimo non credo che sia un grossissimo problema ecco quindi penso che in questa situazione si può fare però ecco nel caso dell'aereo che arrivava da Bangladesh non l'avrei fatto lo dico sinceramente senti la domanda d'obbligo devo fartela anche se so benissimo che tu sei uno scienziato e che quindi non hai la sfera di cristallo e non ti piace neanche indovinare ma basarti su fatti ma come cosa ti aspetti nei processi cioè prima di tutto un giudizio sulla situazione di oggi beh mi pare che l'abbiamo dato cioè sotto controllo è una situazione io penso la situazione di oggi era in qualche modo prevedibile tanto è vero che avevamo già in più occasioni ipotizzato uno scenario caratterizzato da piccoli cluster che necessitavano appunto di essere rapidamente e tempestivamente circoscritti e tracciati e sta accadendo più o meno questo fondamentalmente certo allora il problema è che io penso che in autunno e in inverno considerando la dinamica della pandemia e proprio guardando quello che è successo con l'aereo per Bangladesh pensando che noi siamo in una bolla di è assolutamente utopico pensarlo va bene quindi sicuramente avremo una molti più di questi casi e anche con dimensioni più importanti ecco più noi li intercettiamo tempestivamente meno disperdiamo le risorse perché il vero problema sai qual è sarà che non dobbiamo arrivare al punto in cui ci sono troppi cluster da poter gestire con le risorse a disposizione perché allora a quel punto il sistema può collassare allora il cluster ti sfugge di mano e diventa e si allarga dappertutto ecco io penso che questo è io penso che noi tutti ma anche le autorità sanitarie devono capire che la tempestività diventa poi capacità operativa perché prima lo circoscrivi e meno è probabile che questo gemmi da un'altra parte quando ce n'hai tanti come probabilmente accadrà in autunno inverno penso che questa sarà la chiave sarà una specie di rincorsa per cercare di evitare che si che dilaghino ecco sì quindi diciamo bisogna far tesoro di tutto il lavoro che tu la tua equip avete fatto di tutti i suggerimenti che ci avete dato quello che il vostro studio ha dimostrato bisogna dar merito al merito e io veramente ci tengo a dirti un grande grazie da parte davvero di tutta la comunità scientifica di Padova e penso italiana e del mondo perché hai avuto il grande merito di essere sempre estremamente coerente di darci una visione davvero lucida di quello che stava accadendo e la tua voce è stata sicuramente una delle voci che hanno fatto la differenza quindi un sentito grazie da parte di tutti noi scienziati ma penso anche i cittadini sono sicura di poter in questo momento parlare anche come cittadina non solo come collega grazie e grazie per questa bella chiacchierata sono certa che molti l'ascolteranno più e più volte per avere davvero è anche un documento storico perché sentire da te il racconto di come si è creato questo studio credo che sia una bellissima testimonianza da conservare grazie ancora grazie ancora Andrea grazie di tutto e buon lavoro a presto grazie a tutti